Guarda quanta gente che c'è! Non lasciamo soli i ragazzi che sono ai mulini, perché sono la parte migliore di noi. Come non dobbiamo lasciare soli i compagni e le compagne che sono ai domiciliari, Dana in carcere e tutti coloro che la pagano con la propria vita, questa lotta così forte e bella che deve vincere e siamo qui per ricordare questo e per dire che noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre. Grazie.